A questo punto non lo so che cosa farà Alberto, conoscendolo vorrà vincere e quindi attaccherà. Certo che gli basterebbe scendere veramente col freno a mano tirato per vincere la Coppa di Slano Gigante. Forza Albertone, speriamo che porti a casa un altro trionfo perché insomma con la stagione che ha avuto se lo merita davvero. Partito il nostro grandissimo campione che finalmente ha coronato il sogno di vincere la Coppa del Mondo Generale. Partito molto molto deciso, con grandi anticipi di linea, grande precisione, il suo vantaggio su Madera è di 70 centesimi di secondo e ha guadagnato altri 18 centesimi, proprio non sta facendo una gara a risparmio Alberto, anche se io sono, non lo so, è difficile. Lui davanti a così tanta gente vorrà sicuramente vincere, però insomma un minimo di calcolo magari lo farà anche. Abbiamo Alberto in azione, Forza Alberto lasciando con grande precisione, molto attento, puntuale nei cambi e gli sono rimasti 49 centesimi da gestire. Forza Alberto qui sotto è il suo pane, quando c'è da far andare in scena i tratti, dei tratti un po' pianeggianti. Qui è arrivato lievemente in ritardo di linea, potrebbe aver perso qualche cosa, speriamo non troppo, Forza Alberto, 2.15.54, non dovrebbero esserci problemi e con 15.14 vince un'altra volta. Assolutamente straordinario, primo in questa gara, primo nella Coppa del Mondo Generale, primo nella Coppa del Mondo di Slalom Gigante, primo nella Coppa del Mondo di Slalom, fantastico Alberto, niente da dire. Una prestazione leggendaria una volta di più, adesso lo vedete.